Quello che serve è sapere, secondo me, come dato puntuale, è quello che è il numero delle aziende attive, magari aggiornate con cadenza trimestrale o barra semestrale. Diciamo quelli che sono i dati macroeconomici, dal mio punto di vista, almeno per quello che è il mio settore. Quanto è importante avere dati sempre aggiornati, anche con questa digitalizzazione che va ormai a passo molto veloce? In una scala da 1 a 10 sicuramente 9,5, per non dire 10.